Pinocchio Non è ancora finito, gli mancano la bocca e le sopracciglia, ma a un tratto il grillo sente delle voci e corre a nascondersi. Sta arrivando qualcuno. È Geppetto, venuto per finire il suo burattino. Prende un pennello e gli disegna un sorriso e le sopracciglia. I suoi amici cuccioli, il gattino Figaro e la pesciolina Cleo, guardano attenti il bravo falegname. E ora ho proprio un bel nome per te, Pinocchio, dice Geppetto muovendo il burattino con i fili. Oh, gli piacerebbe tanto che Pinocchio fosse un bambino vero, ma adesso si è fatto tardi, è ora di andare a letto. Mentre Geppetto dorme accade qualcosa di straordinario. Nella casa appare una creatura magica, la Fata Azzurra. Vuole premiare il falegname, che è tanto buono e ha fatto felici molti bambini con i suoi giocattoli. Così la Fata sorride, agita la sua bacchetta verso Pinocchio e... Pinocchio comincia a muoversi e a parlare. Che incantesimo meraviglioso! Dimostrati bravo e coraggioso e un giorno sarai un bambino vero, gli dice la Fata. Il grillo felice ha visto tutto e lei vuole fare una magia anche per lui. Un tocco di bacchetta e il grillo si trasforma. Ora ha un vestito elegantissimo, ma soprattutto è diventato la coscienza di Pinocchio. Perciò gli darà dei buoni consigli e lo aiuterà a comportarsi bene. Certo, solo se il burattino vorrà ascoltarlo. Pinocchio è contento, salta e balla e tutto quel trambusto sveglia Geppetto. Il buon falegname non crede ai suoi occhi. Che bellezza! Pinocchio parla e si muove. Pieno di gioia lo abbraccia, lo bacia, lo accarezza. Il giorno dopo Geppetto manda Pinocchio a scuola perché diventi un burattino educato e intelligente. Ma strada facendo Pinocchio chi incontra il gatto e la volpe due furbacchioni e non da retta al grillo. Che strella preoccupato. Dove vai? Non seguirli! Il gatto e la volpe portano Pinocchio dal burattinaio mangiafuoco. Stupito da quel burattino che si muove senza fili, lo fa subito recitare nel suo teatro. Il pubblico è entusiasta e applaude lanciando tanti soldini sul palco. Pinocchio è felice. Forse diventerà un famoso attore. È notte ormai. Geppetto non vedendo arrivare Pinocchio è uscito a cercarlo perché ha paura che si sia messo nei guai. Ma Pinocchio è già lontano. Mangiafuoco che non vuole farselo sfuggire l'ha chiuso in una gabbia ed è partito con il suo carrozzone. Per fortuna Pinocchio non è solo. Con lui ci sono il grillo e la fata azzurra. Perché non sei andato a scuola? Gli chiede la fata. Lui risponde inventando un sacco di bugie e il suo naso si allunga. Pinocchio non si dicono le bugie, lo sgrida la fata. Ma poi lo perdona e lo libera. D'ora in poi però dovrà comportarsi bene. Purtroppo Pinocchio incontra ancora una volta il gatto e la volpe. Il due gli raccontano che quella stessa notte potrà partire per un posto bellissimo, il paese dei Balocchi. Là non c'è scuola, si ride e si gioca a non finire. E Pinocchio si fa convincere. Il postiglione, un signore sorridente, accompagna Pinocchio e tanti altri bambini nel paese dei Balocchi. È un luogo pieno di giostre, luci e colori. Ma il postiglione non è buono come sembra e ha uno strano lavoro. Vende asinelli in cambio di tante monete d'oro. Ma dove li trova tutti questi asini? Nel paese dei Balocchi i bambini per magia diventano asinelli. Ecco dove il postiglione trova i ciuchini da vendere. Anche Pinocchio sta per trasformarsi in asino e gli sono già spuntate la coda e le orecchie. Ma il grillo riesce a portarlo via da quel posto stregato appena in tempo. Pinocchio torna a casa con il grillo, ma Geppetto non c'è. E una colomba lascia cadere una lettera dal cielo, dove c'è scritto che Geppetto, mentre cercava il suo burattino, è stato inghiottito da una balena. E da allora vive nella sua pancia, a bordo del relitto di una barca. Il burattino coraggioso decide di ritrovare il suo caro Geppetto. Si tuffa in mare e cerca, cerca, poi finalmente incontra la balena. È molto affamata, apre la bocca per inghiottire un banco di pesci e anche Pinocchio, che le nuota vicino, finisce nella sua pancia. Dentro la pancia della balena c'è il relitto di una barca. E nel relitto, sì, ecco Geppetto, con Figaro e Cleo, che emozione abbracciarlo. Figlio mio, sono felice di rivederti, esclama il falegname stringendolo forte. Ma certo, non possono restare lì. Bisogna pensare a come uscire da quella strana prigione. La balena apre la bocca solo per mangiare. E allora tutto può entrare, ma niente può uscire, spiega Geppetto sospirando. Come faranno a fuggire? Beh, Pinocchio ha avuto una splendida idea. La farò starnutire, dice, e con l'aiuto del falegname accende un fuoco. Presto la pancia della balena si riempie di fumo e il solletico fa starnutire l'animale. Pinocchio e Geppetto escono volando dalla sua enorme bocca e si aggrappano a una zattera. Sono liberi, ma la balena è davvero infuriata e l'insegui fino alla riva, tra spruzzi e colpi di coda. Arrivato sulla spiaggia, Geppetto tira un sospiro di sollievo. Ma dov'è Pinocchio? Oh no, è nell'acqua e galleggia, immobile. Geppetto con il cuore spezzato lo prende tra le braccia e lo riporta a casa. Come piange povero Geppetto, è come triste il grillo. Ma a un tratto una luce illumina Pinocchio. È la fata azzurra che sussurra. Svegliati! Quando apre gli occhi Pinocchio si accorge che non è più un burattino ma un bambino vero. La fata lo ha premiato perché si è comportato bene. Che gioia, che felicità! Pinocchio balla e canta con il suo papà. Lo abbraccia e lo accarezza il buon Geppetto con tanta tenerezza e immenso affetto. Fine